Da allora abbiamo intitolato, dopo la sua mostra abbiamo intitolato il nostro premio più prestigioso a questo grandissimo maestro della storia del cinema, François Truffaut. E diamo questo premio, il premio François Truffaut, ai grandi che vengono a illuminare questa sala e questo festival. E oggi con grandissimo onore assegniamo il premio Truffaut Award a Mr. Richard Gilles. Tutti in piedi, un applauso! Applausi Applausi Grazie a tutti. Allora, io non ne sapevo molto di questo festival, ma adesso ho capito, questa è una cosa veramente, veramente importante. Non tanto per me, ragazzi, io non sono nessuno, ma per voi è importante. C'è una responsabilità che va di pari passo con quello che voi state facendo. Voi siete stati portati qui da tutti i vostri posti di provenienza. E siete in una situazione nella quale ci si aspetta da voi che voi generiate la vostra migliore personalità, il vostro miglior me stesso. Questo è quello che dovete ricordare. Il modo in cui siete qui, portatelo alle vostre comunità, portatelo appresso. Rimanete connessi ciascuno con l'altro e continuate a generare ancora più di questo per il resto della vostra vita. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.